... Squadre di soccorso della Croce Rossa in azione Cani cerca persone e vigili del fuoco impegnati nella rimozione delle macerie Urla, grida di aiuto e mezzi speciali dell'esercito in azione A Lucrezia di Cartoceto Sembra una scena di un evento sismico in piena regola ma niente paura Si tratta di un'esercitazione dove l'evento è finto Ma gli attori e le squadre impegnate sono vere Sotto gli occhi rapiti di oltre 300 bambini Questa mattina alle 11.30 per il secondo anno Cartoceto diventa la capitale della protezione civile Che assieme alle squadre di soccorso Mostra cosa avviene realmente in uno scenario di questo genere Si tratta del secondo anno in cui il gruppo comunale di protezione civile di Cartoceto Ripropone il progetto scuola multimediale di protezione civile Si tratta appunto di un momento formativo, informativo e didattico Che il gruppo comunale di protezione civile ha elaborato e realizzato Con la collaborazione dell'istituto comprensivo Marco Polo di Lucrezia E che consentirà prevalentemente ai ragazzi delle classi terze e quarte della scuola primaria Di appunto formarsi rispetto ai vari momenti e ai vari siti di informazione Di tutte quelle che sono le forze che in qualche modo potrebbero entrare in gioco In caso di emergenza Esercito in prima linea nei casi reali e anche qui a Cartoceto nella didattica Tra i bambini che pur di poter indossare un elmetto mimetico E salire sull'autoblindo non si risparmiano in file estenuanti Oggi siamo venuti qua per dimostrare ai bambini Le attività principali del 28esimo reggimento Pavia Che grazie alla prontezza dual use Capace di impiegare sia le tecnologie a disposizione per l'ambito Fuori dalla popolazione E sia per altri impieghi, quelli preposti alle nostre attività Oggi in particolare per i bambini abbiamo cercato di attirare l'attenzione Per le cose più pratiche Quindi per i nostri veicoli, per le nostre attrezzature, per i nostri equipaggiamenti Diciamo che erano più attratti da quelle che erano le attività materiali Per loro alla fine è quasi sempre anche un gioco Anche questo qui Oltre ai militari ogni altro corpo è coordinato dalla protezione civile Che ha gestito le fasi dimostrative dell'intervento Interforze Che è andato in scena appunto a Cartoceto Un impegno che insomma comunque sia notevole E siamo riusciti nel nostro intento Ringraziando anche il cielo che comunque sia stamattina ci ha assistito E siamo riusciti a coinvolgere importantissimi corpi Quali l'esercito, l'aeronautica militare, il corpo forestale dello Stato E il gruppo cinofili dei vigili del fuoco Per dire i più importanti Comunque sia senza scordare la Croce Rossa Senza scordare i vari gruppi che sono intervenuti anche di protezione civile Oggi comunque sia parliamo di terremoto Da qui ci sarà l'esercitazione vera e propria Con il crollo di un'abitazione Fatta chiaramente con gli scatoloni E sarà tutto un divertirsi Ma un divertirsi comunque sia Mentre si insegna qualcosa E mentre comunque sia È una cosa che può capitare realmente Grazie 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 Grazie